Sono venuto per salvare l'umanità. Sono venuto per salvare l'umanità. Ma tu ce l'hai il pugno atomico? No. Ma tu ce l'hai il raggio gamma? No. E allora come la salvi l'umanità? Con la fede. Te l'avevo detto. E allora come la salvi l'umanità? 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 E allora come la salvi l'umanità?